bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di monosport 07 siamo qui per un reso conto di quanto è successo ai gironi e per pronosticare leggermente gli ottavi di finale ragazzi perché la vincitrice dell'ultimo mondiale l'ho azzeccata eppure ero piccolissimo ragazzi ero appena sbarcato su youtube io dissi fin dalla prima gira facevo la prima superiore io dissi già per me vince la francia fin dalla prima partita dei gironi ragazzi quindi perché comunque la francia col mondiale ha iniziato male ora andiamo a vedere un po' come me la capo con l'europeo anche se questo è veramente molto molto difficile pronosticare perché ci sono tante squadre che ambiscono alla vittoria non vedo quella intuizione che ho di solito che dico secondo me andrà così se io dico che ora vince la svizia la svezia vince la svezia no non ho questa percezione credo che sia un europeo che si giocherà molto sugli episodi ragazzi sono sincero su questo si giocherà molto sugli episodi perché ci sono due o tre squadre favorita una la vedo leggermente sopra le altre ma tutto può succedere perché quella che vedo leggermente sopra le altre è la stessa che affronta una nazionale che ha molto molto culo adesso andiamo a parlare prima della fase a gironi e poi un po' in generale del tabellone del torneo anche perché l'italia è capitata dalla parte del tabellone dove ci sono più squadre forti perché croazia spagna francia italia belgio portogallo sono sei squadre comunque molto forti se andiamo a vedere l'altra parte del tabellone le squadre non sono sei ma sono tre inghilterra germania e olanda e ci sono due scontri molto abbordabili quali svezia ucraina e galles danimarca invece dalla parte di sinistra ci sono sicuramente molte più squadre forti e non ci sono match come appunto galles danimarca o svezza ucraina anzi ci sono match un po' più combattuti come belgio portogallo e croazia spagna andando a parlare un attimo della fase a gironi l'italia è stata la migliore perché è l'unica a non aver subito gol anche l'inghilterra non ha subito gol ma l'inghilterra ne ha fatti due con sterling e kane noi con insignia immobile che comunque sono due giocatori di tutto rispetto ne abbiamo fatti sette ragazzi quindi sette gol per gli azzurri due autogol se non sbaglio no 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 un autogol per il resto sono sei normali due di locatelli due di immobile uno in signa e uno pessina con gli assist di verratti e verratti berardi barella e le altre non me li ricordo ragazzi però insomma siamo lì perché immobile ha segnato senza assist all'autogol e l'assist non c'è quello per in signa l'ha fatto immobile e quelli per locatelli ha fatti uno berardi uno barella e quello per il 3 a 0 di immobile se non mi sbaglio l'ha fatto toloi cioè non l'ha anticipata lui perché me lo ricordo ma non so se viene segnato come assist mentre per quello di di pessina viene segnato assist a verratti e questo è quanto ragazzi io però credo che l'italia sia una squadra che non ancora affrontata le big perché io sono curioso di vedere l'italia con la vincente di belgio portogallo perché sarebbe il primo vero big match di mancini perché ragazzi si mancini 30 vittorie di fila 12 senza subire gol record di imbattibilità però ragazzi mancini alla fine ha affrontato sempre squadre o più piccole o poi non metto in dubbio che il lavoro di mancini è stato straordinario questo non ci piove a prescindere da tutto mancini ha ridato sicuramente una stanza d'animo veramente importante a questa nazionale ma che l'italia passava come primo nel girone era suo dovere che batte l'avster è suo dovere e con la vincente di belgio portogallo che si vede per me il vero valore dell'italia io vedo questo ragazzi non siamo in un campionato perché in un campionato anche se sei una un inter e ti limiti a fare il compitino battendo tutte le squadre sotto di te quindi tutte bologna gagliari verona eccetera eccetera e poi nei big match alcuni li vinci alcuni li pareggi e alcuni li perdi il campionato molto probabilmente lo vinci perché comunque va tutto quello sotto di te qui siamo in un torneo è diverso è come un stile champions è una cosa diversa per me quindi insomma raga io voglio vedere l'italia in big match perché l'italia o affronta squadre piccole come austria come che ne so oppure affronta squadre comunque medio grandi come olanda polonia abbiamo affrontato se non mi sbaglio la croazia con mancini quindi insomma raga siamo lì quindi raga è un qualcosa di strano da vedere quest'italia di mancini perché si distruggiamo tutte quelle sotto di noi su questo in un modo o nell'altro segniamo e comunque non subiamo gol questo va riconosciuto a mancini che ha fatto del centrocampo il suo punto forte ha convocato zagnolo ancora prima che esplodesse qualche scelta da rivedere come quella su ken o politano però insomma ha voluto convocare bernardeschi ognuno fa quello che gli pare poi magari bernardeschi ci può vincere l'europeo e ci ricrediamo tutti così come abbiamo fatto con zagnolo e l'altra scelta che gli critico io è quella di mettere toloi per mancini però insomma finora toloi e bernardeschi non è che abbiano fatto danni certo vedo leggermente avanti toloi perché ho porti toloi ho porti mancini sono entrambi forti mancini è quello più forte toloi è quello più duttile quello con cui vai più sul sicuro quello con cui rischi di meno così come la scelta di convocare cristante non castrovilli magari castrovilli si è unito dopo per il forfetto di pellegrini però insomma quindi raga e questo è quanto quindi l'italia voglio vederla di più nei big match la danimarca può fare da outsider perché è una squadra che comunque diciamocelo è andata avanti per il non per la tecnica perché ragazzi senza ericsson non gira troppo secondo me la danimarca poi andata avanti di cuore si è portata comunque una buona situazione dove affrontare il galles comunque è molto meglio affrontare il galles che affrontare ma che sono passato come terzo hanno affrontato una seconda cioè per farvi capire insomma chi è passato la seconda a volte incontra la prima invece quando sono passati come terzi affrontano una seconda farvi capire un po no perché anche la il portogallo che è passato come terzo affronterà la prima che è il belgio mentre chi è passato come secondo come te altri come che hanno passato come te cioè un po strano da dire ragazzi perché l'austria se non mi sbaglio pure è passata come seconda fatemi un attimo controllare l'austria è passata come seconda sì l'austria ragazzi ne ha vinte due su tre con ucraina e macedonia è passata come seconda eppure affronterà una prima che l'italia mentre a volte chi affronta chi è uscito come terza è un po un po alla smersi il discorso ragazzi insomma però purtroppo hanno fatto questa formula che neanche mi piace tanto cioè ragazzi non è possibile che su 24 squadre ne vengono sono eliminate solamente quante 8 cioè insomma ragazzi sono state eliminate solamente le ultime del girone e solo due terze su sei quindi alla fine il girone oggettivamente non era neanche tanto difficile da passare vogliamo dire quindi bene il belgio che per me è la favorita numero uno e lo dico non lo so io vedo veramente forte forte il belgio quest'anno ok ha una differenza di minore dell'italia e ha secondo me anche una difesa molto molto altarenante parlo come organizzazione difensiva non come interpreti che comunque sono forti perché alla fine ragazzi nonier vertong e nalder vireld sono comunque giocatori forti poi chi ha più il belgio anche l'altro terzino è forte ora non mi viene il nome però il belgio ha veramente dei giocatori forti e ha un comparto offensivo in attacco veramente forte che gira attorno a lukaku che a 26 anni è già il miglior marcatore di tutti i tempi con la nazionale del belgio però ha anche mertens anche i due hazard cioè quindi ragazzi è una nazionale che la vedo molto molto bene il belgio non ci scordiamo chi ha un giocatore che per me è da pallone d'oro kevin de brugne io veramente gli darei il pallone d'oro non so se vince il belgio già ha fatto un gol e due assist di brugne ma per me è veramente forte forte e l'olanda ha passato il girone però l'olanda la vedo un po limitata tecnicamente sinceramente perché alla fine gli manca van dieck in attacco non hanno attaccanti chissà quanto forti sinceramente arriveranno in semifinale perché hanno un culo della madonna perché affrontano la repubblica cieca e poi affronteranno la vincente di galles danimarca quindi arriveranno in semifinale dove comunque potrebbero affrontare anche la svezia chi lo sa perché la svezia per me batte l'ucraina affronterà la vincente l'inghilterra germania e poi vedremo per me vincerà l'inghilterra alla fine una sorta di culo però insomma la germania io l'avevo già detto in realtà che non era totalmente spacciata e per me padeva il portogallo perché alla fine il portogallo è stata l'unica squadra a vincere con l'ungheria ma se non vinceva con l'ungheria non passava il girone perché germania e francia con l'ungheria hanno pareggiato quindi la germania come squadra la vedo molto molto forte e anche ben organizzata sinceramente anche se l'hove sinceramente è diventato forse un po troppo prevedibile però go sense è stata l'intuizione perfetta per portare di nuovo la germania a essere un po più imprevedibile ragazzi ecco tutto werner deve cercare di buttarla dentro perché sennò buttare le stelle e la croazia è una squadra che calata negli ultimi anni quindi vedono un croazia spagna un match molto molto equilibrato perché o lo stravince la spagna o lo vince di misura la croazia io lo vedo così quindi la croazia ha fatto sicuramente un bel girone vincendo nella fine al suo trascinatore van perisic però in modric rispetto a tre anni fa è leggermente calato perché comunque rimane sempre luca modric brozic è un giocatore che comunque al centrocampo ti giostra la squadra ma non sposta più di tanto gli equilibri covacic comunque un giocatore un po che può giocare mediano trequartista ma anche lui non lo vede in una condizione perfetta in questo nazionale come organizzazione di centrocampo non come interpreti perché gli interpreti brozic modric covacic sono tre giocatori sicuramente fortissimi perisic anche un giocatore estremamente forte però insomma se andiamo a vedere in generale non vedo una croazia troppo più amanti di una spagna che comunque a interpreti soprattutto centrocampo molto molto più organizzati come squadra ecco anche se non ha madridisti per la prima volta e dunque per me la spagna eliminerà la croazia anche una squadra molto molto equilibrata e pro penso 51 per cento spagna 49 croazia ecco per quanto riguarda il girone più intricato di tutto l'europeo dove comunque lungheria ha già fatto un'impresa straordinaria a dire la sua con il nostro rossi perché italiano la natura dell'ungheria e hanno fatto veramente un qualcosa di straordinario facendo due punti con francia e germania non sono non si sono qualificati veramente per pochissimo perché stavano anche per battere la germania in realtà e però hanno fatto veramente il loro dovere chi mi ha subito di meno come squadra è sempre il portogallo perché il portogallo rispetto agli scorsiani è una squadra molto più forte a cansello rubendias rui patrisio andrea silva cristiano ronaldo ghe des veramente ragazzi in te bruno fernandes interpreti che messi insieme formano un comparto veramente della madonna per il portogallo della madonna però se andiamo a vedere l'organizzazione di squadra per me c'è ragazzi tutti i gol che hanno fatto hanno avanti tre su rigore un autogol e due gol a porta vuota c'è alla fine ronaldo due gol su azione che ha fatto sono due gol a porta vuota se andiamo a vedere due gol comunque che al 70 per cento li fai e il 30 per cento li sbagli il primo e il secondo il 99 per cento lo segni in un per cento lo sbagli perché la porta pagante ragazzi poi ok il posizionamento attacco eccetera eccetera però ragazzi quel gol comunque era facile da fare non vedo un un portogallo molto avanti tecnico tattico parlando ecco quindi per me il portogallo a meno che non abbia l'ennesimo bucio de culo verrà fatto fuori dal belgio il belgio affronterà l'italia la francia affronterà la spagna passerà la francia passerà il belgio quindi ancora una volta belgio francia in semifinale come nel mondiale con la differenza che stavolta passa il belgio affronterà lo dico già da ora la vincente in inghilterra germania per me al 70 per cento sarà la vincente in inghilterra germania l'altra bene l'altra finalista dell'europeo quindi molto molto bene in inghilterra svezza per me se vogliamo gli accoppiamenti e olanda galles poi l'olanda nel galles l'olanda affronterà le vincente in inghilterra germania ma non la vedo sarebbe bello vedere belgio l'olanda perché sarebbe una sorta di derby perché belgio l'olanda se vedete la cartilla geografica stanno così un po come vedere che ne so spagna portogallo una sorta di rivalità non creata ma creata dalla geografia però comunque vedremo per me la francia la più forte tecnicamente parlando però per me il belgio è un outsider che veramente può essere secondo me l'anno del belgio dopo tanti anni che se ne parla bene di questo belgio per me può essere veramente l'anno del belgio è una squadra veramente veramente ben organizzata e vedremo se riusciranno a vincere queste europeo perché io veramente la vedo avanti a tutte e purtroppo è capitata dalla nostra parte del tabellone perché magari in una finale secca sarebbe un'altra cosa magari capitava con la francia e lo eliminava la francia perché io l'italia con tutte le squadre la vedo che se la gioca è impossibile pronosticare l'italia con una big io ve l'ho detto perché non ho ancora visto l'italia con una big però tra tutte le big il belgio era proprio quella che dovevamo cercare di evitare assolutamente e invece ce la incontreremo se vinceremo l'italia austro poi non lo so il portogallo magari avrà culo e ci incontreremo contro il portogallo di ronaldo non si sa mai però io credo che lo vincerà il belgio questo europeo andiamo a vedere come andrà a finire detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto forza azzurri sempre se vi è piaciuto non vi lascerei mi piace se non trovi un dislike commento se siete d'accordo se siete d'accordo con me se non è ancora avuto iscrivetevi al canale in descrizione il link per sicuramente un instagram da monosport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi